Che dite? La sapete? Che dite? La descrizione di un attimo, le condizioni che cambiano, crolla la fortezza del mio odevole, anche se non sei più solo, perché solo non sai stare, credi che dividere sì, la vita sia normale, ma la mia memoria scivola, mi ricordo lì, la trasmissione dei pensieri, e la sensazione che in un attimo, qualunque cosa pensassi, poterà succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, volentami, ci rivediamo adesso, dopo quasi cinque anni. E poi cos'è successo? Aspettami, volentami, ci rivediamo adesso, dopo quasi cinque anni. E poi cos'è successo? Aspettami, volentami, ci rivediamo adesso, dopo quasi cinque anni. E poi cos'è successo? Aspettami, volentami, ci rivediamo adesso, dopo quasi cinque anni. E poi cos'è successo? Aspettami, volentami, ci rivediamo adesso, dopo quasi cinque anni. distesi come se fosse sospesi ancora nel nord poteva succedere e poi cos'era il successo pure di me, di me, di me come presto, proprio cinque anni ah, come sempre sei le descrizioni un attimo bene ah, come sempre sei un'emozione fortissima ah, come sempre sei bellissima perché ah, come sempre sei le descrizioni un attimo bravo! ah, come sempre sei un'emozione fortissima 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 inutile un'emozione fortissima un'emozione fortissima tajczak un'emozione fortissima un'emozione fortissima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.